per la crescita partito questa serie forza ragazzi diamoci dentro rinnoviamo l'invito delle scarpe della nostra collega che si è trovata senza per fare le scarpe Nike lisce e ha lasciato il sacchetto alla partenza del MF100 vediamo vediamo come ha già annunciato la treventa sicursia in netto vantaggio seguire Falta Piz vediamo 48,92 per lui